caro nipotino mio adesso che hai fatto 18 anni e sei diventato grande fai il bravo ragazzo si responsabile e maturo rifletti bene prima di fare qualsiasi cosa e non ti avventurare mai prima di aver riflettuto sui rischi e sulle conseguenze di quello che dovrai fare non frequentare cattive compagnie e stai solo con ragazzi e ragazze che possono darti qualcosa e soprattutto possono farti stare bene punta al successo ai grandi ed ambiziosi traguardi che poi possono arricchire la tua vita e il tuo tempo avrei voluto augurarti tutto questo caro nipotino invece io che ho 80 anni ti dico basta con tutte ste cazzate quello che invece io ti voglio dire adesso è un'altra cosa allora goditi la vita più che puoi scopati tutte le ragazze che ti piacciono perché tu sei bellissimo e poi somigli tanto la tua nonnina cara gira il mondo e viaggia tanto finché non ti stanchi e quando poi sarai stanco di goderti la vita e di viaggiare trovati una donna ricca e bella assai e falle innamorare la falle perdere la testa e quando sarà corta sposatela subito così non dovrai lavorare e vivrà nel benessere e nella ricchezza con i soldi di lei poi caro nipotino mio falle fare tanti figli così da vecchio non rimarrai mai solo insomma goditi la vita più che puoi perché è breve e soprattutto pensa solo alla tua famiglia a te stesso e alle persone che ami e del resto fregatene questo devi fare hai capito così poi quando sarai vecchio come adesso lo è la tua cara nonna non rimpiangerai nulla di questa vita da giovane e avrai fatto tutto quello che hai voluto e ti sarai anche goduto la vita perché alla morte non rimane nulla di tutto quello che hai vissuto caro nipotino mio tanti 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 auguri ti amo di bene e come dice tuo nonno beh adesso è l'ora del caffè ti voglio bene